è arrivata l'ora di far cadere le maschere per gli allievi di amici di maria de filippi le tensioni nate a seguito del noce moscata gate non sembrano placarsi e il branco degli innocenti è sempre più predominante a risentire dell'atteggiamento dei compagni questa volta è stata maddalena la ballerina insieme alla collega megan è stata improvvisamente convocata in studio dal suo professore una volta saputa la notizia l'alunna di emanuello ha avuto un crollo dovuto alla forte paura di essere eliminata a questo punto il divario presente in casetta è stato evidente la maggior parte dei ragazzi infatti è andata a consolare megan lasciando maddalena sola nei suoi pensieri la 18 n è rimasta seduta per minuti visibilmente preoccupata ma nessuno sembra aver fatto caso alla sua agitazione o quasi nessuno in sua difesa infatti è intervenuto il cantante piccolo che non è riuscito a tacere davanti all'indifferenza dei suoi compagni qua ognuno pensa a se stesso si vive molto la competizione e riguardo maddalena vige la stessa legge dopo dei rapporti d'amicizia veri esistono ma esiste anche molta finzione tanti abbracci baci voler bene a stupire particolarmente è stato il commento del ballerino ramon dopo il discorso di piccolo io sono un po preoccupato per megan più che altro delle parole che evidenziano una sorta di empatia selettiva e che hanno provocato molte critiche sul web ma poi ramon che dice io più che altro sono preoccupato per megan proprio senza tatto e pieno di disinteresse nei confronti di maddalena che già stava male capisco che ognuno ha i propri rapporti e tutto ma questa è stata cattiveria pura ha scritto un utente in molti sui social si sono lamentati dell'atteggiamento dei concorrenti notando una certa incoerenza rispetto ai discorsi fatti giorni fa sul voler essere più uniti una mancanza di unione che era stata attribuita unicamente ai modi di fare dei cantanti wax e tommy dali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.